I nomi non erano neanche corredati da Curriculum e vi lascio immaginare tante volte quei nomi da dove arrivavano cioè c'era dentro un po' di tutto erano ex collaboratori, autisti, amici un po' di tutta questa gente come c'erano anche dentro dei validi personaggi quindi poteva trovarsi un po' di tutto noi ci siamo trovati col problema iniziale di dire come faccio senza Curriculum a scegliere una persona per collaborare con il nostro gruppo in più c'era anche il fatto che gli altri partiti sapevano già chi andare a prendere, chi erano le persone valide quindi rischiavi di trovarti tra virgolette gli scartati e dall'allegato A tutte le persone che sono nell'allegato A andavano suddivise proporzionalmente su tutti i gruppi e assunte con contratti che erano già stabiliti sull'allegato B invece sono più di 500 persone che andavano assunte in proporzione di 1 ogni 5 deputati e con contratti da stabilire volta per volta col singolo da contrattare se non assumi una persona dell'allegato A questa persona va a finire al gruppo misto e a te vengono sottratti 65.000 euro per persona all'anno dal budget, dal contributo onnicomplessivo del gruppo se non assumi persone dell'allegato B può arrivare a una deportazione del contributo onnicomplessivo fino al 35% mi pare adesso passo lui così non parlo sempre io per dirvi cosa siamo riusciti a cambiare grazie 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 grazie